L'emergenza è quella del carogasolio, il credito d'imposta non basta, occorre fare molto di più. E' quanto ha affermato il responsabile del Dipartimento Pesca della Lega Selvini, onorevole Roberto Viviani, a margine di un incontro che si è tenuto al mercato ittico di Schiavonea, alla presenza dei candidati Domenico Furguele, Simona Luizzo e Maria Carmela Iennini. Abbiamo dei pescatori che sono costretti a spostarsi, andare anche in Sicilia per tirare le barche durante il periodo di fermo, quindi è basilare che tutta la parte, c'è anche un travel, quindi quelle grandi gru che da anni è ferma, quindi deve essere utilizzata perché i pescatori hanno bisogno di allagio e vario di fare la manutenzione durante il periodo di fermo. Quindi già quello è importante, poi secondo me servirebbe un porto come questo, sicuramente una valorizzazione di più e una conoscenza maggiore della marineria, anche tramite la vendita diretta, attraverso naturalmente anche dei programmi. Il candidato Furguele si è fatto carico di interloquire con l'autorità portuale di Gioia Tauro sugli impedimenti delle attività di alagio e varo in merito all'accatastamento. Sulla lagio e il varo c'è stata la diatriba sull'assegnazione, sull'accatastamento della stessa struttura e dell'immobile. L'ammiraglio Agostinelli mi ha dato rassicurazione su dei passaggi che sono in evoluzione costante. La candidata Luizzo si è soffermata sugli aiuti della regione e del governo. Una richiesta specifica che dà immediatamente il regione al sessore Gallo perché vengano tornati i fondi, un primo, la prima parte dei fondi perché la stagione se no non può della pesca neanche iniziare. Poi una rivendicazione nazionale. Per la candidata al proporzionale Iannini il porto deve avere anche una destinazione turistica. Immagino uno sviluppo turistico che è quello più consono secondo me alla nostra struttura.